Lunedì scorso, 25 marzo, si è tenuta all'Istituto Professionale Kandinsky di Milano, in una zona di periferia estrema, Grato Soglio, la festa della poesia. Abbasso i finestrini e alza il volume di tutto. Questi sono stati i versi che hanno fatto da sottofondo alla giornata. Pensata in un quarto d'ora e realizzata in poco più di 20 giorni, questa festa, che ho tanto desiderato e voluto, ha visto nove classi aderire al progetto e ha contato ben 15 contributi artistici, tra audio, video, disegni, opere artistiche, tavole grafiche, di tutti gli studenti dei vari indirizzi coinvolti. Ciò che vi voglio raccontare è qualcosa in particolare che mi ha colpita molto, e cioè durante la giornata abbiamo immaginato una guerriglia poetri, abbiamo fatto irruzione nelle aule mentre le classi facevano lezione. Con pochi giovani poeti siamo entrati interrompendo la quotidianità scolastica e via via che facevamo irruzione, gli stessi studenti, prima un po' timorosi, ci chiedevano di entrare in una classe anziché in un'altra perché c'era l'amica del cuore, perché avevano desiderio di farlo davanti al fidanzato, eccetera. Perché dico questo? Perché non si vantavano dell'ultima versione di iPhone, non si vantavano dell'ultimo modello di scarpe alla moda, si vantavano di saper dire dei versi al mondo.